La nostra serata ha dato a conoscere il nostro secondo concorrente, che si chiama? Loris Loris, senti Loris, quanti anni hai? 24 24, beh un po' di tardo per piccoli fan Senti Loris, ti piace il calcio? Sì Per quale squadra ti fai? E che non ci vedi, no, perché non ci vedi? No, Maradona, a Navi non lo santo Bene, e in questo proposito c'è una sorpresa per te, perché con noi vado da... Che carino, che carino E il pibe, e il pibe Bene, grazie Senta Oh, no, 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 mamma Qual è il gol più bello della sua lunga carriera? Tutti Ah, bene, oh mio Dio, Giro, Giro È qui, è qui, è qui, è qui È qui Ecco, si tranquillizza Bene, bene, bene Grazie, Giro Bene, adesso proseguiamo, andate a conoscere il nostro terzo concorrente Come ti chiami? Alessandro Alessandro Alessandro, di dove sei? Eh, da San Capiglione Brava, senti Alessandro Qual è il tuo personaggio preferito? Alessandro Alessandro Bene, uno dei più grandi attori della sua generazione E senti, stasera cosa ci farai vedere? Un monologo di Alpacino Bene, Alessandro Bene, Alessandro Che carino, che carino Bravo 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 Grazie. Questa sera vi farò una proposta che non potete rifiutare, perché io sono al Pacino. Bene, senta, è tutto un piacere averla con noi. Cosa pensa delle interpretazioni del nostro piccolo Alessandro? Bene, e tu sai che lo faccino di più della nostra bella Italia? Bene, grazie, proseguiamo, andiamo avanti e andiamo a conoscere questa bella bambina. Che carina, che carina. Come ti chiami? Viviana. Viviana, quattro anni hai? Dieci. Dieci? Senti Viviana, cosa vorresti fare da grande? Volevo fare la cantante, però mi piace anche recitare e ballare perché sono brava. Bene! E senti, che classe fai? Devo fare la prima media. Bene, il tuo personaggio preferito? Qual è? Cindy Loper. Cindy Loper? Che cosa ci fai sentire? Beh... Non me lo ricordo. Bene, mamma, è cattolino! Vai! Vai! Simone ce proceso! vasione, me chiara! Voi ta most hecho a sì che la chiara con sua amata si thamana. Voi vivi aificar il grande toadio. Voi vivi a fruita lui qui morrowe. Cosi viviapone mi. And girls, they wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun Sento melodica, pulite e crocchiate al tempo stesso E' con noi Cindy Loper Buonasera Sento, dopo che c'è il suo ultimo album, ce ne parli